Dato che questo libro è stato appunto presentato anche al Gay Village, ho voluto omaggiare un po' le drag queen che conosco già e che conoscerò durante questa bellissima serata. E approfitto per dire che sono delle persone straordinarie, che io ammiro tantissimo, sono molto divertenti. E quindi stasera con l'occasione ho voluto omaggiarle un po' di questo look che ricorda loro, no? Da sempre la cipollale è una paladina dei diritti degli omosessuali, tanto da diventare un'icona gay. Un trono gay come lo vedresti?